La scoperta è di quelle sensazionali, destinata a cambiare la storia del Natale. Santa Claus ha deciso di cambiare residenza. Da qualche giorno, infatti, ha lasciato definitivamente la sua baita in Lapponia e si è trasferito sulla vetta del Cervati, nel comune di Sansa, come testimoniano queste esclusive immagini. Babbo Natale ha occupato una baita a quota 1.898 metri sul livello del mare. Ad accoglierlo e sistemarlo al meglio i ragazzi dell'Associazione 3T del Cervati che gestiscono l'ufficio di promozione turistica del comune. Da quel che si apprende, sembra che Santa Claus rimarrà qui per sempre. Grande soddisfazione, dunque, da parte della gente del posto nell'apprendere che anche Babbo Natale ha scelto ed apprezzato la bellezza del Cervati per stabilire la sua nuova dimora. È il luogo ideale, con l'atmosfera suggestiva e la neve. Spostata alla residenza, naturalmente è stato cambiato anche l'indirizzo a cui i bambini potranno scrivere le proprie letterine. Ora occorre infatti farlo a Babbo Natale, presso comune di Sansa, piazza 24 maggio numero 1. Saranno poi i ragazzi dell'Associazione 3T del Cervati a consegnare a Babbo Natale le letterine che, come da tradizione, la notte di Natale esaudirà. Ovviamente, fuori di metafora, l'iniziativa, nata per conservare il sorriso dei bambini anche in questo periodo particolare, vede in azione l'Associazione di Sansa per regalare la magia del Natale, strezzando l'occhio però alla promozione di uno dei luoghi più suggestivi del territorio, il Cervati e la sua vetta innevata, che non hanno nulla da invidiare alla Lapponia.